Non è certo un mio problema se la tua famiglia non ha... Che cos'è che non ha? Da mangiare. Dovevi rifletterci prima di diventare un pezzente. Con lui ho finito. Via, portatelo via. Un altro! Ma io! Come non detto. Che faccia tosta a questi contadini, eh? Non me ne parlare.